Noi ieri abbiamo visto il servizio che lei ha realizzato, l'abbiamo visto sui social, pubblicato dal suo sito, rispetto a questa situazione angosciante che sta vivendo questo nostro concittadino, ormai non da pochi giorni, ma da diversi mesi. L'abbiamo visto, ma per la verità, noi eravamo già a conoscenza, diverso tempo fa, della situazione del nostro concittadino e tanto è vero che tra di noi, alcuni di noi, hanno cercato di aiutarlo alla bello e meglio, così come ha fatto lei ieri sera, magari in maniera più puntuale, ognuno di noi ha cercato di sollevarlo un po', almeno dal punto di vista alimentare, voglio dire, e sicuramente le immagini che sono passate sia del giaciglio vuoto, sia praticamente quando lui ha fatto quelle dichiarazioni, sono un pugno nello stomaco e lo sono non solo perché siamo oggi e 22, domani è l'antivigilia di Natale, ma proprio perché praticamente una persona, un essere umano non può vivere in quelle condizioni, ancora di più in questo periodo che ormai è inverno pieno e voglio dire con tutte le conseguenze che l'inverno porta, soprattutto dal punto di vista sanitario, di salute, su un soggetto che magari è già portatore di patologie di suo. Dottoressa Palladino, noi avevamo programmato da tempo questa intervista per parlare della città, ma questo evento di vitale importanza ha modificato giustamente i contenuti del nostro incontro, parleremo di senza fissa di mora, ieri come ha detto già lei ho avuto l'opportunità di intervistare Gianfranco, è un senza fissa di mora dietro i palda, non è l'unico caso, anche se gli altri due hanno le stesse condizioni di Gianfranco, ma non sono residenti della Tribalda, ma comunque dormono qui all'interno della città. Al di là dei colori, delle appartenenze politiche che in questi casi lasciano il tempo che trovano, come si possono salvare questi sventurati? Allora guardi, sicuramente noi dobbiamo tenere presente l'individuo, al centro del nostro ragionamento è che noi stiamo parlando di una persona, però non posso esimermi dal sottolineare che per determinate deleghe c'è bisogno di professionalità e competenza. Lei ha fatto l'assessore alle politiche sociali e ha anche le competenze professionali per tracciare un percorso di speranza. Guardi, diciamo che le politiche sociali un po' di tempo fa erano un po' considerate la cenerentola delle amministrazioni comunali, oggi con tutto quello che è accaduto con le crisi economiche e quanto altro, con il Covid le politiche sociali assumono quasi un ruolo guida, le politiche di welfare, perché welfare, perché politiche sociali non significa fare le dame di carità, come magari si poteva intendere una volta, ma praticamente grazie anche ai cospicui finanziamenti che lo Stato invia agli enti locali, soprattutto per alcune fasce deboli della popolazione, significa portare avanti una programmazione di quelli che sono gli aiuti e gli strumenti da mettere in campo per le fasce più sofferenti della popolazione. Quindi ci vuole programmazione, ci vuole buonsenso, se non c'è la professionalità perché a volte, ripeto, ci sono deleghe dove tu secondo me devi avere un esperto, parliamo anche per esempio dei lavori pubblici, dell'urbanistica, dove magari avere un delegato, ingegnere, architetto, geometra, come dire, ti facilita la vita perché sa di quello che parliamo e la stessa cosa accade per le politiche sociali, quindi per le politiche di welfare in generale. Spesso in altri comuni vedo che i delegati alle politiche sociali hanno anche la delega alla sanità, proprio perché è un pacchetto questo che riguarda il benessere della persona, il benessere nella sua totalità. Quindi mi dispiace, mi dispiace perché è una situazione, questa nello specifico, tornando a quello di cui si parlava prima, che doveva sicuramente essere presa in carico molto prima. So che l'amministrazione comunale ha esperito alcuni tentativi, so che per alcuni o per un periodo il nostro concittadino, da quando è tornato alla vita civile, è stato ospitato da qualche amico. So anche che l'amministrazione per qualche periodo gli ha permesso di stare una volta in un albergo e una volta sul convento di San Pasquale, dove praticamente ospitavamo con il progetto della Caritas dei migranti sofferenti psichici. Finito il progetto, ci si è messo il lucchetto a quel posto a San Pasquale che potrebbe essere una soluzione non definitiva, ma almeno provvisoria sul medio periodo per questo tipo di persone. E questo nostro concittadino circola, diciamo circola, ma come dire, è abbandonato a se stesso in queste condizioni che fanno rabbrividire dal punto di vista anche igienico-sanitario. Allora, io so per carità che l'amministrazione ha cercato di coinvolgerlo in qualche progetto che poteva vederlo ricoverato tra virgolette o presso la Caritas, come pure è accaduto a me quando ero assessore di alcune situazioni del genere e siamo riusciti grazie alla Caritas a garantire almeno tetto, pulizia e cibo alla persona che in quel momento era in difficoltà. So che gli è stato proposto anche il ricovero tra virgolette sempre in qualche struttura e so che il nostro concittadino ha rifiutato, perché il nostro concittadino vuole praticamente cercare di ricominciare. Ora, il problema qual è? è un problema di programmazione. Perché? Perché se tu vedi, se ti arriva un caso del genere e il primo tentativo è avvicinare la famiglia, noi sappiamo che i rapporti con la famiglia non sono idilliaci, quindi è chiaro che la famiglia ha un ruolo non di primo piano in questa vicenda. Ma nel momento in cui questo, diciamo, si bypassa la famiglia, perché la famiglia esprime un certo tipo di pensiero, allora l'ufficio servizi sociali si dà da fare attraverso il tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno. Cosa che ho saputo è stata fatta pochi giorni fa, 20 giorni fa, un mese fa, i tempi sono lunghi ovviamente perché non è che l'amministratore di sostegno viene nominato subito. E perché dico questo? Perché dobbiamo dare la possibilità a una persona che ha potuto sbagliare quanto vogliamo noi, quanto vogliamo noi, perché Gianfranco lo conosciamo, è una conoscenza anche mia degli anni precedenti in cui facevo appunto il delegato ai servizi sociali anche prima, però è un essere umano e deve essere trattato con dignità e quindi io al posto dell'assessore, al posto di questa amministrazione comunale avrei fatto così, avrei immediatamente attivato la procedura per l'amministratore di sostegno, cercando di in qualche modo aiutare questa persona a reinserirsi, ci riempiamo la bocca, la bocca di letteratura e delle nuove programmazioni di welfare in cui gli esclusi devono essere inseriti in nuovi progetti, in progetti che li vedano di nuovo partecipi alla vita civile. Ma se questo noi non lo facciamo e adottiamo solo e soltanto soluzioni temporanee, perché ripeto quelle ci sono state, quindi io non posso assolutamente dire che l'amministrazione non ha tentato, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e soprattutto se tu parli con una persona che è capace di intendere e di volere, è malato, ha i suoi problemi di dipendenza magari, ma non è un malato psichiatrico, attenzione perché lo dico? Perché nel momento in cui tu sei al cospetto di un portatore di patologia psichiatrica a quel punto può intervenire anche contro la sua volontà, per il suo bene, per il suo benessere. In questo caso non è così. Allora questo cittadino va preso per mano, va aiutato nel reinserimento attraverso la figura dell'amministratore di sostegno, dandogli la dignità, perché parliamoci chiaro, il sindaco è anche la prima autorità sanitaria di un comune, come può permettere che un cittadino, suo residente come lei diceva prima, può vivere in quella erciume? Questo è veramente inumano, perché quando ho seguito un po' anche le risposte, perché il suo servizio ha scatenato un terremoto, giustamente, perché molte persone non sapevano nemmeno dell'esistenza di questa situazione. Eppure sta a pochi passi da Piazza Umberto I. Lo so, però molte persone, ho letto dei commenti che veramente si esprimevano in maniera stupefatta, magari effettivamente presi dalla vita di tutti i giorni, non avevano contezza di questa situazione. Però voglio dire, questo servizio che lei ha fatto va proprio nella direzione di dire, noi non dobbiamo, come dire, eliminare quello che non ci piace, ma dobbiamo cercare di farlo diventare di nuovo parte integrante di un sistema. Non possiamo essere una città inclusiva se escludiamo questo tipo di persone. Che fine farà Gianfranco nelle prossime ore? Oggi è 22. Ma io credo che, allora, come è costume spesso accade, l'amministrazione comunale quando accade appunto qualcosa che sfugge al loro grande controllo, corrono a metterci le pezze. E quindi io ritengo che già tra qualche ora, ma domani, che è l'antivigilia di Natale, l'amministrazione comunale adducerà le solite, l'ho detto io, quindi io lo so che loro hanno tentato, ma ripeto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per cui magari prenderanno questo nostro concittadino e cercheranno di fargli passare decentemente almeno il santo Natale. Il mio appello è all'amministrazione comunale affinché si adotti una soluzione definitiva, facciamo ancora parte del consorzio dei servizi sociali, esistono dei progetti, ripeto, che vanno nella direzione del recupero di queste situazioni. Basta leggere qualcosa, basta studiare un po' e non improvvisare, perché l'improvvisazione poi porta a questo. Detto ciò e chiudo, le politiche sociali sono una cosa molto seria. Io in quest'ultimo anno e mezzo ho osservato come la città stava andando verso l'accoglienza, verso il benessere dei cittadini e quant'altro. Qualcosa è stato fatto, molto si deve continuare a fare, molto si potrebbe recuperare dalle esperienze del passato. Una cosa però nelle politiche sociali non si deve fare e questo l'ho detto sempre e lo continuerò a dire per rispetto anche alla mia storia di amministratore. Non si può lucrare sulle politiche sociali, perché si scherza e si gioca sulla pelle della gente e questo non è ammissibile. Bisogna essere presenti nell'ombra, perché le situazioni sono delicate, sono particolari, a volte ci sono in mezzo dei minori, c'è molta omertà da parte magari del vicino di casa che sa e conosce e sta zitto. Devi agire nell'ombra, ma devi agire, altrimenti queste teleporti c'è vita al durante, a meno che poi non succeda l'irreparabile e poi siamo tutti bravi a dire, insomma come dire, noi l'avevamo proposto ma ecco in questo caso lui ci ha detto di no, ci sono tante soluzioni. I finanziamenti che arrivano copiosi per quanto riguarda le politiche sociali è di un mesetto fa, insomma di questi giorni, la possibilità da parte delle famiglie tripaldesi di accedere a questo bonus. Voglio dire che il Ministero, un po' sulla falsarica di quello che succedeva durante il periodo del Covid, ha inviato anche al Comune di Tripalda da ben 52 mila Euro per le famiglie, voglio dire, più bisognose e questi sono finanziamenti dedicati che manda il Ministero per e soltanto per quello, non diciamo finanziamenti che vengono stornati come pure ho sentito dire, non abbiamo messo le luci quest'anno a Natale perché abbiamo favorito le fasce più deboli, questo non sta né in cielo né in terra. Allora siccome noi siamo vecchi di mestiere e le cose sappiamo come vanno, io consiglierei all'amministrazione di utilizzare un po' più di serietà, di evitare soprattutto alle persone che magari studiano, leggono, si informano di dire sciocchezze e soprattutto consiglierei all'amministrazione dopo quest'anno e mezzo di rodaggio, perché qua pare che siamo sempre ancora in rodaggio e non so una macchina quanto ci mette per fare il rodaggio, però penso che siamo anche oltre, di cominciare a programmare seriamente, non solo dal punto di vista delle politiche sociali, ci sarebbe, lei l'ha detto prima, io mi auguro che ci vediamo prima della fine dell'anno perché col gruppo Atripalda Futura abbiamo elaborato proprio degli schemi, delle tabelle per far capire alla città di Atripalda cosa è cambiato in quest'anno e mezzo, soprattutto nelle tasche dei concittadini e anche nelle mie tasche perché io sono una cittadina del comune di Atripalda. Quindi la ringrazio per questa opportunità che mi ha dato veramente, mi appello affinché questo nostro concittadino possa avere di nuovo la dignità dell'essere umano, di essere umano e possa avere almeno un'altra possibilità di reinserimento, perché ci sono le associazioni in Italia, nessuno tocchi Caino e questo è proprio il caso di dirlo. Allora se noi riteniamo di essere persone coscienziose, dobbiamo comunque tendere la mano anche se l'altra persona ha sbagliato, almeno per capire se le intenzioni ci sono, sono reali o sono fittizie, ma se tu questo tentativo non lo fai, hai perso già in partenza.